La Citroen C5 Aircross Blue HDI 180 Shine, dotata del cambio EAT8 che insieme a Lilia Marcucci abbiamo avuto l'occasione di guidare, si è da subito dimostrata affascinante per le sue linee particolari e molto comoda e sicura nelle diverse condizioni di guida. Parlare di Citroen significa parlare di estetica particolare e ben riconoscibile anche da lontano. E' questo il caso della Citroen C5 Aircross con i gruppi ottici anteriori su due livelli e la calandra estesa a tutta la larghezza del muso del SUV. Così, nonostante la stretta parentella con la Peugeot 3008 e la Opel Grand Land X, la Citroen C5 Aircross è unica, grazie anche agli airbump posti sulla parte inferiore a protezione delle due fiancate, mentre sul posteriore spiccano i gruppi ottici che si sviluppano orizzontalmente e il paraurti sporgente. Il Sub Citroen C5 Aircross che abbiamo guidato era equipaggiato con il motore turbodiesel da 2 litri Blue HDI da 180 cavalli in versione Shine con cambio automatico EAT8 e sistema Stop & Start, abbinamento che si è dimostrato sempre pronto per le accelerazioni rapide già dai regimi molto bassi. Abbiamo guidato il Sub Citroen anche su strade innevate e basta posizionare la mitica rotellina alloggiata sul tunnel centrale nel programma di guida corrispondente tra le cinque modalità previste per trovarsi con un'auto che risponde alle sollecitazioni sul fondo stradale di scarsa aderenza grazie ai dispositivi di assistenza alla guida di livello 2. Citroen C5 Aircross è dotata da 20 sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui dispositivo di guida autonoma di livello 2, Highway Driver Assist e tecnologie di connettività all'avanguardia. Le sospensioni dotate dal Progressive Hydraulic Cushions, come vengono denominati dalla casa gli smorzatori idraulici progressivi, sono in grado di attenuare e smorzare le irregolarità del fondo stradale. Seduti sul posto di guida si apprezza la strumentazione digitale da 12,3 pollici, mentre lo schermo dell'infotainment è da 8 pollici, che permette anche di essere collegato allo smartphone e grazie ai tasti inferiori è in grado di dare le informazioni più importanti riguardo la vettura, la marcia, il navigatore anche con mappe in 3D, i punti di interesse, il climatizzatore Bizzona e molto altro. L'abitacolo offre la possibilità a 5 persone di viaggiare comodamente. Sul posteriore ci sono 3 sedili individuali scorrevoli e ribaltabili a scomparsa, che permettono di portare il volume di carico del bagagliaio da 580 a 720 litri. Notevole la possibilità di personalizzazione che Citroen offre ai propri clienti, con una gamma di 30 combinazioni di esterni, tra cui 7 tinte per la carrozzeria, anche bicolore con tetto a contrasto black e tre pacchetti che prevedono dettagli colorati sul paraurti anteriore, sull'air bump nella parte inferiore delle porte anteriori e sul profilo inferiore delle barre sul tetto. Sono 5 invece le personalizzazioni degli interni, in tutti i casi con colori dai toni luminosi e caldi e materiali appositamente studiati. La Citroen C5 Aircross viene prodotta negli stabilimenti de La Giane Rennes, misura 4.500 mm di lunghezza, 1.859 mm di larghezza e il consumo di carburante è di 7 litri per 100 km nel ciclo urbano, 4,9 litri nel ciclo estraurbano e 5,7 litri nel ciclo misto. Il SUV Citroen C5 Aircross con motore blu HDI turbodiesel da 2 litri, cambio EAT8 e sistema Stop & Start viene offerto in listino al prezzo di 37.400 euro, IVA inclusa.